Giorgio Duhamel, Confessioni di mezzanotte, Ago, Edizioni. Questi due libri, Giorgio Duhamel e Norberto Fuentesi, Condannati e Le Scambrelli, sono i primi due libri di una casa editrice che nasce ieri, nel senso che distribuisce per la prima volta nelle librerie i suoi libri la scorsa settimana. Quindi è una neonata casa editrice che aspettavamo, perché intanto è interessante capire quando c'è questo lavoro di ricerca negli abissi dell'editoria e quindi si recuperano dei libri che erano perduti. E questo è un grande talento. Questo è un libro che viene per la prima volta tradotto in Italia, è un libro pubblicato in Francia nel 1920 e poi ripubblicato nel 1993, quindi si tratta di un vero e proprio recupero, un recupero di un grande libro, un capolavoro. Vi leggo un pezzettino, questa è una situazione amena, lui è un dipendente, non è felice, un dipendente di questo ufficio a Parigi degli anni venti, è belle époque, lui è una situazione amena, che a un certo momento tocca l'orecchio del suo capo, quindi facendo un gesto non aveva senso, viene licenziato in tronco e inizia questa lucubrazione. E da lì la confessione, esatto, e parte questa confessione, in cui a un certo momento però lui si riprende a vari momenti, c'è questa mamma che cerca un po' di aiutare sto figlio, un po' un tanghimo degli anni venti. Allora, a un certo momento fa il senso di riprendersi, allora così dice così, quindi la mia vita aveva un senso, capisce? La mia vita aveva una direzione, non era più sparsa come un greggio indisciplinato, è così in realtà, ma raccolta, orientata, questo è quello che avrebbe voluto. Un fiume, non più una palude, un canto profondo e pieno dopo clamori discordanti. Ci sono pare uomini cui pensieri si affolgono fedelmente attorno a un asse, come serpenti alla bacchetta di un dio. Sarei diventato uno di questi uomini. Ci sono uomini che vivono in stato di... E continuo così, insomma, è un grande libro che va letto, perché è così ben scritto. Poi Giorgio Romano, è un personaggio di cui non sapevo nulla, è uno di quegli scrittori dottori, che a me piace, tutti gli scrittori che hanno una formazione scientifica, danno poi sempre degli ameni risultati nella letteratura, ne penso dei celebri francesi. Con lo scrittore dottore. Allora, sì, qui ancora siamo di fronte, come dicevi, a un'altra casa elettrice, 21 lettere, che ha il merito di riscoprire e riportare alla luce il ripescaggio, grandi autori. Ci sono degli autori che da quando... Anche questi sono due Enaudi. Eh sì, un ex Enaudi, che da sempre sono nel famoso odore di Nobel. Cioè questo limbo che raccoglie i migliori scrittori viventi, che però poi regolarmente non vengono premiati per molti motivi. Comunque Bernardo Asciaga, con questo gioiello che era prima le racconti di Obaba, Obaba è il paese, ora è Obaba Coac, tradotto così da 21 lettere. Bernardo Asciaga è sicuramente il più grande scrittore basco, comunque uno dei più grandi scrittori spagnoli. avremo e avrete, tutti noi avremo la fortuna di trovare la Fiera del Libro di Firenze a febbraio, quindi conoscerlo di persona. E questo romanzo, il romanzo è riduttivo, chiamarlo e vi spiegherò perché. Questo libro si inserisce felicemente, anzi diventa uno, almeno dei miei preferiti, libri che hanno a che fare con un paese. Con un paese inventato, ricordiamo la fortunatissima e long ever sell saga di Holt, in questo caso siamo a Obaba, che è una città, è un paese che raccoglie, ovviamente come in tutti i paesi, una vastissima gamma di personaggi. E quindi è il protagonista, e il genio e il talento dello scrittore è quello di riportare in ogni frammento che costruisce questa comunità, questa cosmogonia, una voce, una luce e uno stile diverso di scrittura. Siamo di fronte davvero a un grande libro e, visti in questa luce, la chiave non sta nell'inventare una storia, concluse il mio amico. In realtà, di storie ce ne sono in abbondanza. La chiave sta nell'occhio dell'autore, del suo modo di vedere le cose. Se è capace, prenderà come materiale la sua esperienza, nella quale coglierà qualcosa di essenziale, dalla quale estrarrà qualcosa di valido per chiunque. Se è incapace, non supererà mai la frontiera del meramente aneddotico. Per questo i racconti che oggi abbiamo rivocato sono belli, perché esprimono cose essenziali, non semplici aneddoti. Qua siamo all'interno di una macchina, sembra di stare nella macchina dei detecti selvaggi che si avventurano verso la ricerca della mitica poetessa. In questo caso si sta andando da un altro mitico personaggio che è lo zio Montevideo che si diverte a creare questi momenti in cui c'è la lettura del racconto facendo tutta una serie di programmi strani. E quindi i due protagonisti si chiedono quale e perché un racconto è fantastico. Nel fare questo, in ogni paragrafo poi, è un racconto a sua volta, quindi una specie di prisma. E questo è soltanto uno degli esempi perché poi il libro è varissimo, è fantastico. Obabato Koak, leggetelo, obbligatorio, Bernardo Acciaga. Leggete Confessioni di Mezzanotte, George Duhamel, Diago Edizione, oppure Condannati delle Scabelle, che ancora non ho letto, ma che leggerò perché mi sembravo... Grazie. 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 Grazie.